Allora signori e signori buonasera, qua ci troviamo in via Urezio Caro, questa è una zona che poi porta a Patrullo, vedete, qua posta direttamente a Patrullo, vedete, la vecchia che manomastica, vedi Patrullo? Questo si trova più pronto alla Polcarla, questa è una via che poi porta in via fra Calipanziera, però sbocca a Patrullo e finire i coproduzzi, sono questi grossi che sono un po' borognosi però noi sappiamo sostirli abbastanza bene, ecco qua, qua signorato, sotto il Cucuruzzo, aspettate, tra poco ci arriviamo, potrebbe arrivare qualche po' da ballata e ci arriviamo, ecco qua là, vedete, qui sopra si va verso il Cucuruzzo, vedete, di là, vedete, qua si chiede in via, sono gente per te l'ovio, adesso la facciamo tutta, facciamo vedere dove li abbiamo, sono due sensi unici, uno entrare e uno uscire, uno entra dalla Portella e l'altro esce nella Portella, l'altro esce in via degli Osci, andando via verso via Galatini, quindi verso via Roma, per capirci, insomma, ecco qua, vedete, se vi facciamo vedere anche la fonte più nascosta, quella che magari difficilmente vedremo nelle foto, no? quindi facciamo un video, aspettate anche, questi dossi sono pericolosi, si è presi in malo modo, ecco qua, siamo arrivati alla fine della strada, a dopo, ciao! del Cucuruzzo Grazie.